Di ritorno hai segnato subito la prima partita, di ritorno è Maglia Maranto, quindi personalmente credo che tu possa essere soddisfatto. Sì, 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 personalmente sono molto soddisfatto, sono ancora più soddisfatto perché siamo partiti col piede giusto, dovevamo per forza vincere oggi per dare subito un segnale. Dopo le due partite fatte bene in Coppa Italia ci serviva partire bene per dar morale in una partita un po' complessa dove ci sono stati gol annullati, pali, espulsioni, siamo riusciti comunque sia a tirare fuori il risultato pieno ed è molto importante questo. Le partite così combattute sono poi in genere vinte per 1-0 perché molti hanno detto tante occasioni perdute, però il campo basso ha detto la sua quindi non era facilissimo. Assolutamente, nonostante anche l'uomo in meno in tutto il secondo tempo e anche parte del primo ci hanno messo in difficoltà, sono riusciti ad attaccare, quando prendevano falli laterali o comunque sia calci d'angolo ci mettevano in difficoltà venendo dentro a saltare che avevano struttura, quindi si sono stati bravi a difendere e si sono stati bravi a tenere il risultato pieno. Peraltro sono un po' le squadre di Braglia, era stato annunciato un approccio così grintoso, però l'Arezzo anche in questa partita ha dimostrato psicologicamente di saper tenere. Sì, è vero, ci aspettavamo, l'avevamo preparata tutta la settimana come giocavano loro, come che atteggiamento avevano le squadre di Braglia, anche guardando l'anno scorso ad esempio quindi la squadra secondo me era preparata bene anche sotto l'aspetto psicologico per aspettarsi la loro aggressività, la loro tenacia, la loro forza fisica e abbiamo risposto bene secondo me.